A proposito di iniziative ce n'è anche una straordinaria, l'ennesima di Luca Panichi che in handbike sta scalando, credo abbia finito appena di scalare lo Zoncolan che il 27 giugno scalerà anche lo Stelvio insieme ad Andrea, un dottore che farà il daggio coliere a proposito di iniziative, lo seguirà proprio cercando di motivarlo. Questo è Luca Panichi, un atleta straordinario, davvero un atleta incredibile, grande volontà, grande determinazione, è stato presente alla Tour de France, farà lo Stelvio il 27 giugno, a lui va il nostro pensiero, il nostro applauso perché questo è un traguardo che vale davvero incredibilmente. Luca Panichi è un atleta veramente straordinario, una persona straordinaria, quindi l'applauso e un abbraccio a Luca. Intanto questo scenario straordinario, ho parlato di Seurat che è un pittore francese, questo pittore che dipingeva per piccoli tocchi, per puntini di colore, Francesca. Mi piace pensare a queste mille colori che accompagnano l'impresa straordinaria di Luca Panichi perché insomma dietro a queste imprese ci sono davvero i mille colori della forza, della determinazione, della grinta di chi non ha la fortuna di poter come noi affrontare magari una salita in bicicletta ma lo fa con i suoi mezzi e lo fa con una grinta, una determinazione, una forza d'animo incredibile. Quindi un applauso forte a Luca Panichi.